Morti bianche e incidenti nei campi, il binomio prosegue con una lunga scia di sangue. Dopo il decesso di una giovane madre a Chiusano San Domenico e quello ancora più recente di un'ottantenne a Ponte nel Sannio, il deputato di scelta civica chiama l'Europa. Lo fa attraverso il ministro delle politiche agricole Maurizio Martina, al quale D'Agostino chiede di promuovere anche in sede europea una modifica alla normativa vigente che vieti la presenza di accompagnatori sui mezzi agricoli, in particolare sui trattori. Questo al fine di prevenire incidenti mortali come quelli che si sono verificati recentemente. Il numero dei trattori coinvolti in incidente, scrive D'Agostino in una nota stampa, è in continuo aumento. Nel maggior numero dei casi a farne le spese sono le persone presenti sul lato del conduttore del mezzo agricolo, particolarmente esposte al rischio di essere travolte in caso di ribaltamento. Si ravvisa la necessità pertanto di vietare la presenza a bordo di accompagnatori quando il mezzo è impegnato in terreni scoscesi e pericolosi. Mi auguro che il ministro accolga questa richiesta, contribuendo a ridurre sensibilmente il rischio al quale vengono esposti tanti lavoratori, scrive ancora D'Agostino chiudendo, lavoratori che sempre più spesso sono minori che salgono a bordo dei mezzi agricoli.